Buonasera a tutti, grazie per essere con noi in questo seminario, la lezione di apertura del corso di analisi economica del diritto promosso dall'Istituto Bruno Leoni. Io sono Enzo Cartereggio, appunto dello staff di DPL, mi occuperò della parte organizzativa di questo corso e qui con noi c'è Carlo Stagnaro, direttore studi e ricerche dell'Istituto Bruno Leoni e appunto il docente di questa sera. Buonasera Carlo. Buonasera Enzo, eccoci. Questa appunto è la lezione di apertura, come pensano i nostri partecipanti già registrati che salutiamo, avete risposto in tantissimi al nostro invito a questo corso online e ne siamo molto contenti. E' appunto un corso online che si svolgerà in 12 lezioni, ve ne parlerà tra poco Carlo. Partiremo appunto questa sera con questo appuntamento sull'origine dell'analisi economica del diritto, poi 12 lezioni fino a venerdì 14 maggio, dalle 18 e 30 fino alle 20. Per ogni lezione è prevista un intervento del docente di circa un'ora e poi una sessione di domande e risposte, come sanno tra l'altro anche i molti che hanno partecipato ai corsi online precedenti organizzati dai DPL. Si accompagna a questi seminari tutta una serie di materie didattici che saranno forniti appunto dai docenti, oltre a due libri dell'Istituto Bruno Leoni che abbiamo regalato ai partecipanti in formato ebook, sull'economia degli economisti di Ronald Cose, di cui molto probabilmente si parlerà anche questa sera, e Morire di aiuti, che invece è un libro di Polisi di Guido Accetturo e di Antonio Accetturo e Guido De Blasio, edito appunto da EBL, che parla del caso, di un caso appunto, se vogliamo chiamarlo appunto, di analisi economica del diritto, che riguarda gli aiuti al suo. E' possibile ancora iscriversi, per quanti non lo avessero ancora fatto, stanno seguendo questa lezione, che appunto è l'unica aperta e accessibile a tutti, è possibile iscriversi al corso, attraverso le informazioni che si trovano sul sito dell'Istituto Bruno Leoni, lì ci sono tutte le informazioni disponibili ed è previsto un forte sconto per gli studenti e i neolaureati, chi ha conseguito la laurea nel 2020 o nel 2021. Siamo naturalmente disponibili anche per qualsiasi tipo di domanda sul corso al nostro indirizzo eventi-brunoleoni.org. Detto questo, auguro un buon seminario a tutti e lascio la parola a Carlo. Eccomi, grazie Enzo e grazie a tutti per il vostro interesse e la vostra partecipazione a questo corso in particolare e alle attività dell'Istituto Bruno Leoni in generale. Come probabilmente sapete se siete qui, questo anno espicci di pandemia, tra le tante conseguenze che ha avuto, ha anche indotto il nostro istituto ad avviare una serie di attività nuove o diverse rispetto a quello che era la nostra frase abituale. E tra di esse c'è appunto l'organizzazione di questi corsi online più o meno strutturati e relativi a temi di nostro interesse, diciamo così, intellettuale, culturale, ma relativi anche all'attività di ricerca delle persone che collaborano con l'Istituto e che sono molto rappresentate tra i docenti dei nostri corsi. Condivido una presentazione che dovreste vederlo, vedere in questo momento. Il corso che comincia oggi vuole presentare i temi dell'analisi economica del diritto, in particolare guardando agli strumenti che gli studiosi di economia possono mettere a disposizione degli studiosi di diritto e guardando all'uso che i giuristi possono fare di questi strumenti, attraverso una serie di lezioni che guardano ora ad aspetti teorici, ora ad applicazioni pratiche. In questa prima lezione, in questo intervento introduttivo, dopo aver brevemente inquadrato la natura del corso, io cercherò di raccontarvi quali sono alcuni dei concetti fondamentali dell'analisi economica del diritto. In un certo senso cercherò di raccontarvi perché parliamo di analisi economica del diritto e in che senso parliamo di analisi economica del diritto. E lo farò appoggiandomi in larga misura al signore che ho alle spalle, che è Ronald Coase, scomparso ultracentenario pochi anni fa, premio Nobel per l'economia, proprio per le sue intuizioni, che hanno in qualche modo dato vita o contribuito a dare vita a questo campo di studi e che soprattutto ci aiutano a affrontare in un modo diverso da quello che fino a pochi decenni fa era in qualche modo prevalente, la questione delle imperfezioni del mercato. Come vedremo nell'arco di questa e delle successive elezioni, l'analisi economica del diritto, ma io vorrei dire il 99% dell'attività di ricerca degli economisti e degli studiosi di economia, ha a che fare con le imperfezioni del mercato. E lo dico prima di entrare nel merito del corso di oggi, per togliere subito dal tavolo un pregiudizio, un fraintendimento che spesso compare quando si discuti di economia. Tutti quanti avete sentito almeno nominare, almeno citare, poi ci torneremo più nel dettaglio, il concetto di concorrenza perfetta, da cui deriva l'accusa, nei confronti degli economisti, di avere in testa un'economia, un modello di funzionamento dei sistemi economici che è basato su ipotesi assurde o che non possono trovare riscontro nella pratica. Non solo questo non è vero, ma è vero soprattutto che avere in testa l'idea della perfezione, tra virgolette, probabilmente non è il più felice dei nomi, come spesso accade con gli economisti che danno a dei concetti nomi che nella loro testa sono chiarissimi, ma rispetto al resto del mondo generano spesso dei fraintendimenti, ma in ogni caso definire l'idea di concorrenza perfetta serve a comprendere quali sono le imperfezioni del mondo reale e comprendere quali sono le imperfezioni del mondo reale è essenziale per capire come funzionano i rapporti sociali attorno a noi e quindi in quale modo le istituzioni sociali, giuridiche eccetera cambiano i nostri comportamenti e che effetti prevedibili o non prevedibili possono determinare. Come si articola la lezione di oggi? Inizialmente vi darò una definizione abbastanza ampia di quello che è l'oggetto della nostra indagine, cioè l'analisi economica del diritto, qualcosa l'ho già anticipato ma cercherò di essere più preciso. Una volta definito l'ambito dell'indagine guarderemo quali sono invece i temi che verranno affrontati concretamente nell'arco di questa e delle successive undecilezioni. E poi entreremo nel merito, entreremo nel merito ricordando la figura e le principali conquiste intellettuali di Ronald Coase che come dicevo è oggi in qualche modo il nostro nome tutelare anche se non è l'unico economista che citerò e ancora meno è ovviamente l'unico protagonista di questo terreno, di questo territorio di studio che è nato con lui ma che poi è diventato come dire estremamente fertile, tanto che è valso il premio Nobel anche a diversi altri studiosi che spesso hanno avuto a che fare ovviamente con Coase, per esempio Oliver Williamson che ne è stato un allievo. Parlando di cosa affronteremo tre questioni fondamentali che ruotano attorno ai due suoi articoli più famosi e al modo in cui essi sono stati recepiti. Da un lato, in primo luogo, cos'è l'impresa? Perché noi quando parliamo di economia abbiamo a che fare con questo oggetto che è appunto l'impresa che è protagonista dell'economia nel mondo reale ma che fatica a conciliarsi invece con l'idea di concorrenza perfetta nel senso che dicevo prima. Secondariamente guarderemo a un altro articolo di Coase che si intitola il problema del costo sociale e che ha a che fare con gli effetti inintenzionali dei comportamenti economici le cui conseguenze ricadono su terze parti che non partecipano agli scambi, appunto i costi sociali dei nostri comportamenti, vale a dire quelli che sono noti anche come i fallimenti del mercato. Il tema del costo sociale, dei fallimenti del mercato e delle imperfezioni del mercato è stato formalizzato da un altro grandissimo economista che è George Stigler in un'espressione che è nota come il teorema di Coase che però ha le due peculiari caratteristiche di non essere un teorema e di non essere di Coase o meglio è chiaramente derivato da alcune riflessioni di Coase ma per il modo in cui è formulato rischia di determinare dei fraintendimenti tant'è che Coase stesso l'ha sempre in qualche maniera rifiutato ed esorcizzato. E infine ci avvieremo alla conclusione della discussione di oggi con alcuni esempi di casi in cui l'analisi economica del diritto può avere valore informativo, cioè può aiutarci a comprendere delle situazioni da mondo reale per così dire e concluderemo con una brevissima sintesi di quanto detto sempre che nel frattempo non vi siate tutti addormentati. Allora, cos'è l'analisi economica del diritto e perché ci interessa parlare di analisi economica del diritto? L'analisi economica del diritto, anche nota come Law and Economics, consiste nell'utilizzo degli strumenti economici per studiare la natura e le conseguenze delle norme. Quando noi introduciamo una norma sociale che può essere una legge, può essere un regolamento, può essere una prassi, può essere un arrangiamento contrattuale, noi introduciamo dei vincoli più o meno forti, degli incentivi o dei disincentivi che influenzano il comportamento delle persone. La domanda degli studiosi di Law and Economics è in che modo il comportamento delle persone e degli agenti economici in generale viene influenzato dal cambiare delle norme. E in che modo gli effetti delle norme coincidono o si allontanano dagli intendimenti delle norme stesse. C'era una battuta famosa di un altro grande economista, il terzo che cito oggi o quarto, non lo so, verso il conto, che non si è occupato di analisi economica del diritto, ma che ha spesso avuto delle osservazioni estremamente brillanti, cioè Milton Friedman, il quale diceva noi dovremmo valutare le norme, le leggi, non per i loro obiettivi, ma per le loro conseguenze. L'analisi economica del diritto è la cassetta degli attrezzi necessaria per capire quali sono le conseguenze delle norme. Conseguenze, ripeto, sul comportamento degli agenti economici e di conseguenza conseguenze sugli equilibri del sistema economico nel suo complesso. Dal punto di vista storico, l'analisi economica del diritto nasce dopo gli anni 50, diciamo a partire dagli anni 50, ma soprattutto nel periodo successivo, grazie a un gruppo di studiosi che si ritrovò più o meno casualmente attorno all'Università di Chicago. Alcune date importanti nella storia dell'analisi economica del diritto sono il 1958, quando viene fondato a Chicago da Aaron Director il Journal of Law and Economics, di cui pochi anni dopo, a partire dal 64, lo stesso Coase diventerà co-editor, e che in quella fase è stato il veicolo principale attraverso cui questi studiosi si sono cimentati nel porre delle domande, prima ancora che nel dare le risposte, e poi altri due dati importanti sono il 1960 e il 1961, in cui Ronald Coase nel 1960 e Guido Calabresi, un giurista non un economista, nel 1961 pubblicano due articoli che in qualche modo possiamo considerare i due articoli fondativi dell'analisi economica del diritto in quanto disciplina. L'analisi economica del diritto in questo modo è un fusto da cui poi si sono sviluppati tantissimi rami nell'ambito della teoria dei contratti, nell'ambito della teoria della regolazione economica, e quindi del modo in cui noi, in cui le istituzioni, affrontano e disciplinano la presenza dei fallimenti del mercato, sull'analisi economica delle istituzioni, e in fin dei conti sull'analisi economica in generale di contesti o di comportamenti non strettamente economici, e poi vedremo qualche esempio anche di questo. Come è articolato il corso? Il corso si divide virtualmente in tre parti. Nella prima parte cercheremo di inquadrare l'analisi economica del diritto dal punto di vista teorico. Dopo questa prima lezione Carlo Amenta, che è professore associato di economia e gestione delle imprese all'Università di Palermo, oltre che il signor fellow e il direttore dell'osservatorio sull'economia digitale all'Istituto Bruno Leoni, e per quelli di voi che ci seguono, mio partner in crime in una serie di attività, tra cui il video YouTube sul canale delle cronache dal fronte di Berista, oltre alla loro versione seria che sono le Onifiles. Carlo Amenta parlerà del ruolo economico dello Stato, chiaramente nella logica dell'analisi economica del diritto. Simona Benedettini, economista dell'energia, si occuperà di alcuni esempi delle imperfezioni dei mercati e di come esse possono essere corrette, farà in particolare il caso dell'industria rete e dell'industria dell'energia, e Franco De Benedetti che sicuramente tra tutte le persone che non hanno bisogno di presentazioni e quella che meno di tutte ha bisogno di presentazioni, ma che tra i tanti suoi meriti ha anche il demerito di essere presidente dell'Istituto Bruno Leoni, parlerà dei fallimenti dello Stato imprenditore. Io ho parlato tante volte finora di fallimenti del mercato che saranno, anche se è un'espressione che a me non piace, io preferisco parlare di imperfezione del mercato, saranno l'oggetto principale del mio intervento di oggi. Franco parlerà dei fallimenti dello Stato, in particolare dei fallimenti dello Stato imprenditore. Poi abbiamo una seconda parte del corso che in qualche maniera si sofferma sugli strumenti che gli economisti possono utilizzare per aiutare i giuristi e aiutare i policy maker in generale nella loro attività. Guido de Blasio, che è anche coautore con Antonio Cetturo del libro Morire d'aiuti, che come ricordava Enzo verrà regalato, dato in omaggio a tutti coloro che seguiranno il corso, parlerà di un tema che oggi più che mai è di estrema attualità, vale a dire la valutazione delle policy. Perché è di estrema attualità? perché, come sapete, nelle prossime settimane dovrà essere varato, anzi nei prossimi giorni, dovrà essere varato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che conterrà investimenti e interventi in generale del controvalore di circa 200 miliardi di euro, in parte finanziati attraverso finanziamenti a fondo perduto di origine europea, in parte attraverso prestiti per quanto convenienti, che quindi dovranno essere restituiti, e questa enorme massa di risorse verrà in qualche maniera calata sull'economia. È importante, anzi non è solo importante, ma è anche obbligatorio in funzione delle regole che disciplinano il programma Next Generation EU da cui derivano queste risorse, valutare gli effetti e le conseguenze degli investimenti e delle politiche che verranno programmate in quel contesto. Francesco Ramella parlerà anche gli fellow dell'Istituto Bruno Leone e docente di trasporti, di economia di trasporti presso l'Università di Torino, parlerà delle analisi costi-benefici. Cosa sono le analisi costi-benefici? come vengono utilizzate? A cosa servono? E quali sono i loro limiti? Poi il 3 maggio Alberto Bisin, professore di economia alla New York University, parlerà di quello che è il tema in fondo fondamentale dell'attività degli economisti, vale a dire dati e modelli contro numeri e favole. Come lavora l'economista? Come l'economista studia la realtà attorno a sé? e quindi che tipo di informazioni può dare al decisore politico? E questa, l'intervento di Bisin è il perfetto in qualche modo antipasto rispetto alla lezione successiva che verrà svolta da Vital Bazzolini, anche Vitalba conosciutissima da parte del nostro pubblico, giurista, esperta di diritto e fellow dell'Istituto Bruno Leoni, che ci parlerà di un tema su cui lavora, studia, fa ricerca da moltissimi anni, vale a dire l'analisi di impatto della regolamentazione. L'analisi di impatto della regolamentazione ha un focus in parte diverso rispetto alla valutazione delle policy di cui parlavamo prima perché l'esercizio di valutazione tipicamente si svolge ex post e in ogni caso tende a concentrarsi su quelle politiche che hanno un effetto di bilancio in senso stretto, implicano per esempio l'attassazione o il sussidio o l'incentivazione di certi comportamenti. L'analisi di impatto della regolamentazione invece guarda alle conseguenze attese ed eventualmente ex post dei cambiamenti nelle regole, poi vedremo alcuni esempi. E comincerà infine l'ultima parte del corso che guarderà alla questione dall'altro punto di vista, quello del policymaker. In che modo il policymaker può utilizzare gli strumenti che abbiamo descritto? E lo faremo attraverso alcuni casi studio e attraverso alcuni approfondimenti. Marco Spallone, professore associato di economia politica alla LUIS, parlerà del caso delle tasse sul vizio, cioè come le tasse su comportamenti diciamo così socialmente o individualmente dannosi, il fumo, il consumo di cibi grassi, l'utilizzo di input che possono inquinare l'ambiente, per esempio i combustibili fossili, eccetera, come la fiscalità può intervenire sui comportamenti delle persone. Jerry Ferrara, che è un magistrato, parlerà nella successiva lezione degli effetti economici delle decisioni giurisprudenziali. Perché noi non viviamo soltanto in un mondo in cui tutti sono ligi alle regole, viviamo anche in un mondo in cui le persone a volte violano consapevolmente le regole e a volte addirittura le violano inconsapevolmente. E i giudici si trovano a dirimere, sia nel contesto del diritto privato, sia nel contesto del diritto penale, a dirimere queste situazioni. in che modo le decisioni dei giudici comportano, condizionano l'economia e in che modo sapere che i giudici probabilmente decideranno in un certo senso o utilizzeranno certi criteri di giudizio influenze ai nostri comportamenti. Nella penultima lezione Matteo Motterlini, che è professor ordinario di filosofia e della scienza all'Università San Raffaele, parlerà dell'economia comportamentale, vale a dire quella branca dell'economia relativamente recente e in qualche modo figlia della riflessione o comunque fortemente debitrice della riflessione di Cosa e degli altri padri dell'analisi economica del diritto che studia come gli esseri umani reagiscono al modo in cui gli vengono presentate le informazioni, quali sono le distorsioni cognitive che influenzano il nostro comportamento e le nostre decisioni. Infine Rosa Maria Bitetti che è fellow dell'Istituto Bruno Leoni e ricercatrice in analisi delle politiche pubbliche presso l'Università Lewis parlerà di regulation, better regulation e deregulation sulla base dell'evidenza internazionale, sulla base delle ricerche che molti studiosi tra cui Rosa Maria stessa hanno condotto in relazione all'analisi comparativa delle scelte degli stati in termini di regolamentazione dell'economia. Dopo questa in qualche modo carrellata nel 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 corso delle prossime undici lezioni entro a come dire a gamba tesa nel tema di oggi e cerco di raccontarvi come nasce, da quali riflessioni e da quali domande di ricerca nasce l'analisi economica del diritto. Chiedersi e capire quali sono le domande che hanno stimolato l'iniziativa diciamo così pionieristica di tutti coloro che hanno dissodato un nuovo terreno è fondamentale perché non si possono comprendere le risposte che sono sempre necessariamente parziali e incomplete se non si cerca di comprendere dove volessero andare a sbattere gli studiosi che quelle risposte hanno prodotto e chiedersi quali sono le domande implica necessariamente chiedersi chi sono i protagonisti di di questo tipo di iniziative di questa di questa di questi tentativi di andare a scoprire una nuova frontiera intellettuale e culturale ecco se parliamo di analisi economiche del diritto la domanda chi sono i protagonisti non può prescindere da Ronald Coase che è nato nel 1910 e scomparso pochi anni fa come dicevo prima nel 2013 è un economista inglese allievo di Arnold Plant alla London School of Economics che poi successivamente si è trasferito negli Stati Uniti per capire cose è fondamentale capire il suo impatto iniziale con gli studi in economia dell'LSI e con quella che all'epoca era una delle frontiere della ricerca negli Stati Uniti nei primi anni 30 dove lui andò con una borsa di studio e conobbe Frank Knight e Jacob Wiener il suo maestro a Londra era Arnold Plant tutti gli economisti con cui inizialmente nella fase più importante della sua formazione ebbe a che fare erano economisti che si occupavano di organizzazione industriale vale a dire cercavano di capire come perché le imprese adottano certe scelte organizzative al proprio interno come dicevo la domanda di Cose è più fondamentale Cose dice ma perché le imprese esistono e questa domanda che comincia a sorgergli davvero nei primi anni della sua formazione e lo accompagna poi nel in tutta la sua carriera in tutto il suo percorso intellettuale è la domanda che lo spinge a indagare fatti che fino a quel momento apparivano in qualche maniera scontati scontati nel senso che nessuno si poneva al problema le imprese esistono perché esistono il fatto è che lui per primo a partire dai primi anni 30 abbia posto la questione di non possiamo dare per scontata l'esistenza delle imprese anzi l'esistenza delle imprese vedremo tra un attimo perché in qualche modo viola tutto ciò che insegniamo nelle ane universitarie è la domanda che gli è valsa nel 1991 il premio Nobel che ha nella sua motivazione la scoperta e il chiarimento del significato dei costi di transazione e dei diritti di proprietà per la struttura istituzionale e il funzionamento dell'economia ora perché esistono le imprese questa è la domanda fondamentale che cose si pone in uno dei due suoi articoli più importanti non ne ha scritto tantissimo cose ha scritto abbastanza cosa è uno di quegli studiosi che ha la particolare caratteristica che tutto quello che ha scritto è stato in qualche ambito rivoluzionario ma tra tutti gli articoli rivoluzionari che ha scritto due svettano il primo è quello del 1937 intitolato The Nature of the Firm che proprio si chiede perché esistono le imprese e cosa dice se noi andiamo frequentiamo qualunque corso introduttivo di economia ci viene detto che in qualche modo non meglio specificato i fattori della produzione quindi il capitale e il lavoro migrano verso gli utilizzi nei quali sono più produttivi e questa migrazione è coordinata dal sistema dei prezzi e quindi in qualche modo noi dovremmo aspettarci che i fattori della produzione siano governati da una serie di contratti che vengono continuamente rinegoziati e che conducono appunto al loro utilizzo più efficiente Cosbro dice io mi guardo intorno mi sono coi miei maestri Arnold Plant Frank Knight eccetera mi sono guardato in contorno ho osservato il funzionamento delle imprese che ho studiato e mi sono reso conto che all'interno di un'impresa se un fattorino porta un una scatola da un da un'officina a un'altra non lo fa perché insegue l'utilizzo più produttivo dei del fattore a lui affidato cioè capitale lavoro lo fa perché glielo ordina al suo capo e quindi l'azione umana all'interno dell'impresa non è coordinata dal sistema dei prezzi come studiamo sui libri di economia all'interno dell'impresa i comportamenti degli agenti economici sono coordinati dalla gerarchia tu fai quello che ti ordina e perché questo accade dice cosa al di fuori dell'impresa sono i movimenti dei prezzi che dirigono la produzione e quindi che quindi è coordinata attraverso una serie di transazioni di scambi sul mercato ma all'interno dell'impresa queste transazioni di mercato sono totalmente eliminate scompaiono e così come scompare qualunque cosa simile alla struttura di mercato intesa come astrazione in cui è il sistema dei prezzi che coordina l'impiego dei fattori e abbiamo invece un imprenditore che coordina e che dirige la produzione e cosa dice la ragione per cui abbiamo questo misto di gerarchia all'interno delle imprese il mercato al di fuori delle imprese è che in realtà quello che noi diamo in qualche maniera per implicitamente scontato all'interno della nostra teoria cioè che i fattori della produzione migrino verso gli utilizzi più produttivi richiede una serie di azioni banalmente dei contratti la negoziazione la conclusione dei contratti che non sono azioni prive di costo e se stesse sono azioni che richiedono un costo talvolta monetario talvolta non monetario tempo conoscenza informazioni e così via e quindi esistono dei costi che lui chiama costi di transazione di cui prima non ci si era resi conto ma che sono quelli che giustificano il fatto che che vi siano una serie di attività per cui è più efficiente cioè costa meno banalmente dirigere i fattori della produzione attraverso ordinamenti gerarchici e vi siano invece degli altri comportamenti degli altri contesti in cui è più efficiente lasciare che sia il sistema dei prezzi a coordinare i fattori della produzione e l'equilibrio tra queste due tra queste due forze tra l'efficienza della gerarchia e l'efficienza dei mercati non è un equilibrio come dire scritto nelle stelle è un equilibrio che cambia continuamente in funzione del luogo del tempo del capitale umano e fisico della tecnologia e così via ma è l'esistenza stessa dei costi di transazione che spiega il fatto che vi siano alcuni contesti in cui la gerarchia è più efficiente del mercato in cui i fattori di produzione devono essere coordinati da forme diciamo così di pianificazione e non da forme di ordine spontaneo naturalmente a un certo punto si raggiunge un punto dove il costo di organizzare ulteriori transazioni all'interno dell'impresa è uguale al costo necessario per concludere quelle stesse transazioni nel mercato ovvero al costo necessario ad altri imprenditori per organizzare quelle stesse transazioni e quindi sono i costi di transazione che ci dicono non solo perché esiste l'impresa ma qual è la dimensione efficiente qual è la dimensione ottima di un'impresa e sono le differenze tra i costi di transazione che spiegano perché in alcuni settori in alcune industrie è più efficiente che le imprese siano grandi mentre in altri settori in altre industrie è più efficiente che le imprese abbiano più piccole dimensioni inoltre dice cosa può accadere che man mano che le transazioni organizzate cioè all'interno dell'impresa crescono l'imprenditore compie degli errori nell'alloccare i fattori della produzione in quegli utilizzi presso i quali il loro valore è maggiore vale a dire che egli faccia non faccia l'uso migliore dei fattori stessi della produzione e questo è quello che comporta che porta le imprese che crescono troppo e che quindi hanno costi di coordinamento eccessivi a raggiungere in qualche modo un limite alla loro stessa crescita ora se le domande se le imprese esistono in quanto esistono i costi di transazione allora uno degli elementi fondamentali dell'innovazione è che le innovazioni tecnologiche cambiano i costi di transazione e cambiando i costi di transazione cambiano anche le scelte organizzative delle imprese questo è un primo risultato che apparentemente appare banale ma che non è banale per nulla se lo collochiamo nel punto in cui si trovava la disciplina economica tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40 e nei decenni successivi dire che la tecnologia determina o contribuisce a cambiare influenza i costi di transazione e che i costi di transazione determinano o influenzano le scelte organizzative delle imprese significa dire che gli effetti della tecnologia non riguardano semplicemente il modo in cui produciamo i beni e i servizi che vengono prodotti e consumati ma riguarda anche il modo in cui le imprese stesse si organizzano quando affrontiamo questo tema in qualunque contesto legato alla disciplina economica dobbiamo tenere conto però che il termine innovazione tecnologica ha per gli economisti un significato molto più ampio di quello che ha diciamo così per il vocabolario quando voi pensate all'innovazione tecnologica tipicamente avete in mente o tutti quanti abbiamo in mente lo sviluppo di qualche prodotto più sofisticato un chip in grado di sprigionare una potenza di calcolo maggiore rispetto a quello precedente quando gli economisti parlano di evoluzione tecnologica si riferiscono invece in generale a qualunque cambiamento qualunque innovazione qualunque novità che abbia la conseguenza di aumentare la produttività e aumentando la produttività e questo avviene spesso quando non sempre attraverso una riduzione dei costi di transazione e quindi innovazione tecnologica è un termine che ha un significato molto ampio e che copre non soltanto la scoperta di nuove tecnologie in senso stretto o di nuove materie prime ma anche i nuovi utilizzi nuove scelte organizzative e nuove norme o istituzioni e qui cominciamo a dare un senso al titolo che abbiamo assegnato a questo corso e che si riferisce appunto all'analisi economica del diritto l'analisi economica delle norme l'analisi economica del diritto è lo studio degli effetti che le norme sociali più o meno codificate hanno sui costi di transazione perché i cambiamenti nei costi di transazione implicano cambiamenti in alcuni casi rivoluzionari disruptive nel modo in cui i beni vengono prodotti nel tipo di beni che viene prodotti e quindi per esempio nella dimensione ottima delle imprese o nell'utilità o meno di scelte organizzative legate per esempio all'integrazione orizzontale da produzioni diverse o l'integrazione verticale all'interno di una stessa filiera qui facciamo un passo avanti e arriviamo a un'altra domanda che si pone Coase molti anni dopo nel 1960 nel saggio che citavo sul costo sociale Coase dice ok abbiamo capito che le imprese esistono perché esistono delle imperfezioni del mercato e a causa di queste imperfezioni dei mercati vi sono dei contesti in cui la gerarchia è più efficiente del sistema dei prezzi nel coordinare l'impiego dei fattori produttivi ma cosa succede quando ci troviamo di fronte a a condotte degli agenti economici che hanno degli effetti positivi o negativi che siano su terze parti pensate al caso più più banale per modo di dire banale che è quello dell'inquinamento come come si deve opporre gli economisti di fronte come devono razionalizzare gli economisti il fatto che vi siano dei comportamenti delle condotte che hanno come esito non solo la produzione dei beni e dei servizi che vengono domandati eccetera ma anche la produzione di esternalità di conseguenze che riguardano soggetti che non partecipano allo scambio che vengono però non vengono incorporate nel prezzo di mercato dei beni e dei servizi e cos nel porre questa domanda ha un'intuizione credo geniale che lo porta a fare un altro grande passo avanti e dice cose l'approccio tradizionale tende a oscurare la natura della scelta che bisogna fare in questi casi la domanda normalmente viene posta come se nei casi in cui A infligge un danno a B e come questo danno debba essere normato come faccio a limitare a impedire che A imponga un danno a B dice cose questo è un atteggiamento assolutamente sbagliato perché perde di vista il fatto che ogni relazione di mercato e ogni relazione non di mercato come quella di cui stiamo parlando ha una natura reciproca da un lato io posso vedere il fatto che A danneggi B come appunto il fatto che A danneggi B dall'altro però posso ritenere che posso vedere il presunto diritto di B di impedire ad A di avere un certo comportamento come un danno che B infligge ad A la vera domanda quindi dice cose è chi deve essere chi dei due ha il diritto di danneggiare l'altro e in che misura è A che ha il diritto di danneggiare B per esempio sversando dell'inquinamento all'interno di un suo terreno oppure B che ha il diritto di danneggiare A per esempio impedendogli di portare avanti certi processi produttivi il problema dice cose è capire quale dei due danni è peggiore e quale scelta relativamente a chi ha il diritto di impedire all'altro di svolgere le proprie attività ha quali conseguenze dice cose prosegue le corte storicamente è importante avere in mente che è un economista inglese che studia queste cose in America quindi nell'America del primo del secondo dopoguerra quindi ha in testa un contesto che è principalmente un contesto di common law dove le decisioni sono essenzialmente decisioni giurisprudenziali dice i tribunali tipicamente devono decidere non dovrebbero decidere chi ha fatto cosa ma chi ha il diritto legale di fare cosa ed è sempre possibile modificare le transazioni del mercato intervenendo sulla distribuzione e i confini iniziali di tali diritti naturalmente se queste transazioni di mercato sono prive di costi cioè se i costi di transazione di cui parlavamo prima non esistessero qualunque redistribuzione dei diritti prenderà prenderà si verificherà se crea condizioni in cui aumenta il valore della produzione inoltre se le transazioni di mercato fossero prive di costi cioè se non vi fossero costi di transazioni tutto ciò che conta naturalmente lasciando da parte le questioni di equità perché noi stiamo discutendo di efficienza economica in questo momento è che i diritti delle varie parti che prendono parte allo scambio siano ben definiti e che il risultato delle azioni legali sia facile da prevedere prosegue cose non sempre le cose stanno così non sempre la negoziazione tra le varie parti avviene così spontaneamente e senza ostacoli la situazione è ben diversa quando le transazioni di mercato hanno un costo tale da rendere difficile cambiare la distribuzione dei diritti come era stato originariamente definita dalla legge in questi casi i tribunali influenzano direttamente l'attività economica e quindi sembra desiderabile che i tribunali capiscano le conseguenze economiche delle loro decisioni e nella misura in cui è possibile farlo alla luce delle delle esigenze di evitare di creare troppa incertezza tengano queste tengano conto di queste conseguenze nel momento in cui prendono delle decisioni e quindi se i fattori della produzione se noi pensiamo ai fattori della produzione come ha diritti io non ho un bicchiere ho il diritto a fare certi utilizzi di un bicchiere allora diventa più facile capire che il diritto di fare qualcosa che ha un effetto dannoso verso terzi per esempio la creazione di fumi rumore odori eccetera è anch'essa un fattore della produzione perché una parte è una componente di un certo processo produttivo esattamente come possiamo utilizzare un pezzo di terreno per impedire a qualcuno di attraversarlo o di parcheggiarci o di costruirci un edificio allo stesso modo possiamo utilizzarlo per impedire per ostacolare la vista di un panorama o il silenzio o il godimento di un'atmosfera silenziosa o pulita o non inquinata il costo di esercitare un diritto ovvero di usare un fattore della produzione è sempre corrispondente alla perdita che si soffrirebbe in caso contrario che si soffrirebbe nel caso in cui l'esercizio di quel diritto fosse impedito e quindi l'esistenza dei costi di transazione mentre in un mondo privo di costi di transazione la redistribuzione dei diritti è facilmente possibile in un mondo in cui i costi di transazione esistono cioè nel nostro mondo la distribuzione originale dei diritti ha delle conseguenze economiche estremamente rilevanti e quindi le decisioni giurisprudenziali hanno a loro volta delle conseguenze economiche rilevanti ultimo passo e poi ci avviamo verso la parte conclusiva del del mio intervento che spero non sia stato troppo confuso o troppo noioso l'ultimo passo arriva da uno studioso di diritto Guido Calabresi che da tanti punti di vista aveva una prospettiva assai diversa rispetto a quella da cosa rispetto a quello di cosa ma Calabresi interrogandosi sul ruolo dei tribunali sul ruolo dei magistrati si rende conto che l'espressione distribuzione dei rischi è uno dei temi sulla base dei quali i magistrati devono prendere le proprie decisioni è un'espressione complessa è un'espressione apparentemente chiara ma che in realtà può significare tre cose diverse distribuire rischi può voler dire sparpagliare il rischio di ottenere delle perdite per esempio da una transazione di mercato su una platea la più ampia possibile la distribuzione dei rischi può voler dire la ricerca di quali siano i gruppi di persone che sono meglio in grado di sostenere quel rischio come si dice chi ha la tasca più pesante più profonda e quindi è in grado di meglio assorbire il rischio oppure parlare di distribuzione dei rischi può avere un significato molto diverso un significato non positivo ma normativo e quindi chiedersi chi dovrebbe sostenere il costo dell'eventuale materializzarsi di un rischio se noi mettiamo assieme le intuizioni di Cosa e le intuizioni di Calabresi arriviamo in qualche modo a relativizzare il tema della distribuzione dei diritti il tema della definizione originale dei diritti e a vedere che qualunque decisione normativa ha delle conseguenze economiche estremamente profonde è qui che ci arriva tra capo e collo il cosiddetto teorema di Cose il teorema di Cose che come dicevo non è un teorema e non è di Cose è una razionalizzazione compiuta da George Stigler nella terza edizione del suo libro nel 1966 della intuizione di Cose che dicevamo prima secondo Stigler il teorema di Cose afferma che in condizioni di concorrenza perfetta i costi privati e sociali coincideranno ovvero per utilizzare le parole di Cose a cui Stigler si ispira ma che sono un pezzo della sua riflessione la definizione dei diritti è un preludio essenziale alle transazioni di mercato ma il risultato finale delle transazioni di mercato è indipendente dalla distribuzione originale dei diritti quando i costi di transazioni sono nulli vale a dire se tutti potessero negoziare senza alcun costo senza alcun ostacolo liberamente tra di loro è irrilevante che io abbia diritto a inquinare e quindi se qualcuno mi vuole impedire di inquinare mi debba pagare ovvero che il soggetto che in qualche maniera subisce le conseguenze dell'inquinamento abbia diritto all'aria all'acqua pulita e quindi se voglio inquinare sarò io a pagarlo perché in assenza di costi di transazione in qualche modo ci accorderemo e qualunque sia la distribuzione originale dei diritti troveremo lo stesso tipo di arrangiamento è dal punto di vista di Stiegler un'intuizione fondamentale quella di Cose che completa che dà una prospettiva particolare sul concetto di concorrenza perfetta e tuttavia dal punto di vista di Cose questo si tratta in qualche modo di un tradimento della sua stessa lezione perché il teorema di Cose formulato nella versione di Stiegler prende le mosse dall'assenza di costi di transazione mentre l'indagine di Cose e tutta la letteratura successiva si concentra proprio sul fatto che i costi di transazioni esistono il problema di Cose non è descrivere col mondo come sarebbe se non ci fossero i costi di transazione il problema di Cose è che i costi di transazione esistono e che la loro esistenza comporta delle conseguenze e quindi da un lato è importante capire come sarebbe il mondo tra virgolette perfetto ma dall'altro descrivere il mondo perfetto non ci serve per rappresentare un mondo che perfetto non è ci serve semplicemente e non è poco per capire quanto il mondo reale si distingue è lontano dal mondo idealizzato e in che modo le imperfezioni dei mercati possono essere corretti se possono essere corretti e quali conseguenze la loro correzione eventualmente comporta perché esattamente come imperfetto come i mercati sono imperfetti sono imperfetti anche le decisioni pubbliche una delle enfasi una delle caratteristiche fondamentali dell'analisi economica del diritto da questo punto di vista è l'enfasi sull'efficienza delle decisioni alla dire gli studiosi di analisi economica del diritto si chiedono quali arrangiamenti normativi possono massimizzare l'efficienza nell'allocazione dei fattori economici in che modo l'innovazione inclusa l'innovazione normativa istituzionale eccetera può ridurre i costi di transazione e quindi avvicinare il mondo imperfetto al mondo al mondo ideale e una delle risposte è che in generale in tutti i casi in cui i mercati possono funzionare i costi di transazione sono sufficientemente bassi il mercato lo scambio il sistema dei prezzi è lo strumento di allocazione più efficiente di cui noi disponiamo estremamente più efficiente delle scelte collettive una seconda conseguenza è che quando i mercati non sono possibili per qualche ragione dobbiamo cercare di mimarne le conseguenze o il funzionamento e quindi dobbiamo cercare di scavalcare i costi di transazione creando le condizioni per cui vi siano dei mercati oppure dobbiamo cercare di intervenire se vogliamo naturalmente massimizzare l'efficienza nell'utilizzo dei fattori che non è necessariamente l'unico obiettivo della politica economica dobbiamo intervenire per cercare di ridurre ridurre le le imperfezioni dei mercati come in tanti altri campi dell'economia l'assunzione fondamentale dell'analisi economica del diritto è che gli individui in media siano razionali e rispondano agli incentivi e quindi una delle un'altra lezione dell'analisi economica del diritto è che le norme non vanno valutate in astratto ma vanno valutate in relazione ai cambiamenti che inducono nel comportamento delle persone vanno valutate in relazione al modo in cui alterano cambiano i costi delle transazioni c'è un 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 esempio sul cui tipicamente gli economisti e i giuristi si scornano perché ciascuno parla una lingua diversa e che però aiuta a capire l'approccio dell'analisi economica del diritto e il modo in cui l'analisi economica del diritto può aiutare i policymaker a compiere a compiere delle scelte che siano razionali e che producano conseguenze il più vicine possibile a quelli che sono i loro obiettivi questo esempio è quello delle multe voi provate a immaginare di essere in automobile e di cercare parcheggio tutti i parcheggi sono occupati però voi sapete che parcheggiare in divieto di sosta e i trasgressori vengono puniti con una sanzione con una sanzione pari a 50 euro il giurista che non conosce l'analisi economica del diritto pensa o è portato a pensare che poiché ho introdotto un divieto nessuno parcheggerà un divieto di sosta lo studioso di analisi economica del diritto gli dirà no quando tu hai messo un divieto ma contemporaneamente hai detto che la sanzione per chi viola quel divieto è pari a 50 euro in realtà tu hai attribuito un prezzo hai detto che il prezzo per parcheggiare in divieto di sosta è pari a 50 euro e quindi io mi aspetto che tutti coloro per i quali il parcheggio in divieto di sosta produce un'utilità superiore ai 50 euro parcheggeranno in divieto in divieto di sosta avere consapevolezza di scusate ho visto nei commenti che mi avete perso mi sentite? Carlo mi sentite? sì? io ti sento chiedo ovviamente ci sono c'è stata una piccola interruzione però se ci fosse qualche problema ovviamente di scrivercelo sempre utilizzando la sezione di edr oppure alzando la mano in questo momento scusate perché ho visto in questo momento ci dicono che va tutto bene grazie a tutti ok ok perfetto scusatemi l'interruzione e dicevo lo studioso di analisi economica del diritto richiesto di una consulenza dal giurista gli dirà guarda che se tu introduci queste norme tu non hai vietato il parcheggio tu hai stabilito che il prezzo di un parcheggio in divieto di sosta è pari a 50 euro e questo può essere bene o male dipende da qual è il tuo obiettivo ma è un fatto del comportamento umano che non può essere essere ignorato un altro aspetto fondamentale ora sto citando degli esempi più o meno casuali di in qualche modo lezione dell'analisi economica del diritto per darvi un'idea di quanto sia vasta l'ambito di ricerca degli studiosi che si occupano di questi temi un altro aspetto fondamentale un'altra osservazione fondamentale degli studiosi di analisi economica del diritto è che abbiamo detto che il sistema più efficiente per l'allocazione delle risorse è lo scambio di mercato lo scambio di mercato è possibile e i costi di transazione sono più bassi quando sono ben definiti i diritti di proprietà non può esserci scambio senza proprietà ma non può esserci scambio efficiente se la proprietà è se non è chiaro quale sia il significato del diritto di proprietà cosa vuol dire avere dei diritti di proprietà chiari vuol dire che devono avere almeno tre caratteristiche devono essere ben definiti ben definiti vuol dire che dire che io sono proprietario di un terreno deve rendere chiaro quali sono i confini del mio diritto di proprietà cosa posso fare di quel terreno e cosa posso e cosa non posso fare con quel terreno secondariamente i miei diritti devono essere difesi i diritti di proprietà valgono poco se non sono calati all'interno di un sistema giuridico tale da impedire a terzi di violare i miei diritti di proprietà in terzo luogo i diritti di proprietà sono tali se possono essere trasferibili cioè se io posso cedere i diritti di proprietà tenete conto che i diritti di proprietà sono diritti sono loro volta rispetto a come li intendiamo noi la sovrapposizione un insieme di tante tipologie di diritti diversi io posso essere proprietario di un terreno e impedire l'accesso a chiunque perché questo fa parte del mio diritto di proprietà ma posso concedere un diritto di passaggio su quel terreno a delle persone particolari oppure quel terreno può essere gravato da un diritto di passaggio preesistente che io devo rispettare e quindi l'importante nella prospettiva di cose dell'analisi economica del diritto è che i diritti di proprietà siano chiari ben definiti difesi trasferibili e che l'informazione relativamente al contenuto dei diritti di proprietà sia accessibile in modo relativamente semplice una conseguenza di questo è che dove non è possibile ottenere diritti di proprietà questi vanno in qualche maniera chiariti o mimati un esempio un'applicazione concreta di questo sono i mercati dei diritti di emissione dei diritti a inquinare noi non riusciamo a definire con l'attuale tecnologia dei diritti di proprietà in senso stretto sull'aria sull'atmosfera intorno a noi ma possiamo costruire e mimare dei mercati definendo dei diritti a generare emissioni che poi possono essere scambiati questo peraltro è uno degli strumenti che stiamo utilizzando all'interno dell'Unione Europea per ridurre le emissioni di CO2 quali sono alcuni ambiti della ricerca degli studi di analisi economica e del diritto sono andato un po' lungo quindi le cito velocemente salvo naturalmente se volete possiamo approfondire in serie di domande e risposte un ambito classico è quello dell'ambiente come dicevo spesso i problemi ambientali nascono dalla difficile dalla cattiva definizione dei diritti di proprietà sui beni ambientali cattiva definizione che a volte non è colpa di nessuno dal fatto che i diritti di proprietà su molte risorse ambientali non possono essere definite il fatto che non possano essere definite determina rilevanti costi di transazione e quindi determina una confusione riguardo a chi ha diritto di fare cosa e quindi per esempio se io ho diritto a produrre una forma di inquinamento che può essere una forma di inquinamento di senso stretto può essere anche a produrre dei rumori oppure se non ce l'ho un altro ambito al quale si sono applicati gli studiosi di analisi economica del diritto è il disegno dei contratti la corporate governance la disciplina del la disciplina dei contratti e così via perché i comportamenti e gli incentivi delle diverse parti che si vincolano reciprocamente attraverso la firma di un contratto dipende ancora una volta da come sono e quanto sono rilevanti i costi di transazione per esempio da quanto una delle parti è effettivamente in grado di vedere come si comporta l'altra un altro ambito di studio è quello del diritto privato regole efficienti definiscono la responsabilità in modo tale che essa determini gli incentivi migliori per entrambi le parti noi non vogliamo definire la responsabilità delle parti che prendono parte a uno scambio in modo tale che si rischia di generare un incentivo perverso a una delle due parti a fregare l'altra e poi c'è il diritto penale che è un altro grande ambito di studio degli studiosi di analisi economica del diritto anche i criminali rispondono agli incentivi esattamente come i non criminali questo per esempio ci aiuta a capire molto meglio il fenomeno della corruzione a capirne le origini e a capire anche cosa bisogna fare per per ostacolarla per ostacolare la corruzione quindi conclusione di una carellata inevitabilmente generica e spero non troppo confusa l'analisi economica del diritto è uno strumento di comprensione del modo in cui le norme e le istituzioni influiscono sul comportamento degli agenti economici quando dico norme intendo le leggi o i regolamenti pensate per esempio alla tutela dei consumatori quando dico istituzioni mi riferisco a caratteristiche più generali dell'ordinamento giuridico per esempio se certe decisioni sono demandate a autorità indipendenti di regolazione o sono invece disciplinate dall'attività di normazione primaria ma anche per esempio se un paese ha un certo sistema elettorale o un sistema elettorale di altro tipo in questo senso l'analisi economica del diritto rappresenta un contributo fondamentale non solo l'attività di ricerca non solo ci aiuta a capire meglio il mondo attorno a noi a capire meglio perché le persone si comportano in certi modi in funzione delle scelte normative istituzionali che vengono fatte ma rappresenta anche normativamente un contributo ai decisori politici ai quali consente di dire se tu compi una certa decisione aspettati queste conseguenze se tu vuoi ottenere questo risultato devi compiere una decisione di altro segno o leggermente diversa io spero di avervi non del tutto fatto addormentare soprattutto spero di avervi convinto che questo è un tema di estremo di estremo interesse e che quindi vale la pena continuare a seguire questo corso ascoltare su temi più specifici e quindi necessariamente più approfonditi e persone più brave di me grazie 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 Grazie.